Quando si è abbastanza lontani da appuntamenti importanti c'è serenità, c'è tranquillità, si lavora dal punto di vista psicologico meglio e questo è anche un vantaggio perché c'è un dispendio fisico nettamente superiore a quello che poi si va a fare durante la settimana tipo e durante l'anno. Quindi credo che sia l'ambiente, il clima ideale per pensare solo a mettere dentro benzina nelle gambe. Ero abbastanza tranquillo perché almeno credo che in questi sei mesi che sono stato al Toro o qualcosa di meno, cinque mesi, di aver dimostrato qualcosa sia dal punto di vista tecnico-tattico in campo che anche fuori perché ho dato più di un segnale alla società che poteva contare su di me. Quindi in cuor mio era abbastanza tranquillo. Certo poi si deve fare i conti con quello che è il mercato e a volte queste due cose non vanno di pari passo. Quindi sì, mi sono preoccupato ma più che altro la mia preoccupazione era quella di dover tornare in un posto dove non ci stavo volentieri. Anche perché poi dopo, l'avevo già fatto lo scorso anno, iniziare una stagione già in salita, si rischia sempre che poi dopo comprometti un po' tutto perché poi la preparazione è la parte più importante del campionato. Quindi era quello che forse mi spaventava di più. Beh, probabilmente nella fase offensiva chiaramente potrei migliorare, insomma, quello sicuramente. Mi sento insomma a un buon livello dal punto di vista difensivo, un po' meno dal punto di vista offensivo. Probabilmente saper avere la capacità di saltare l'uomo sul fondo e fare il cross importante sarebbe, chiaramente, darebbe uno slancio a quello che è già il mio modo di giocare. Quando sei, diciamo, tra virgolette, costretto nel senso del gioco, ti costringe a fare sempre i 60, 70, 80 metri, insomma, c'è un dispendio energetico e chiaramente poi dopo nel finale della partita non sei più così lucido da poter fare cose di un certo tipo. Però non mi sento di dire è meglio o è peggio perché ormai, sì, 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 no, no, è vero, è vero, però nel tempo ho imparato a fare tutte e due le cose. Credo sta un po' all'intelligenza del giocatore capire qual è il momento di farne una e qual è il momento di farne un'altra. Per intenderci, giochi con il Milan e con l'Inter, giochi 80 minuti nel tuo metà campo, anche se poi non è sempre così, l'abbiamo anche dimostrato l'anno scorso, è normale che sei costretto a fare un po' più di fase difensiva e meno di fase offensiva. Quindi credo che sia un po' più qui la differenza che non come piacere.